Edmodo è una piattaforma online gratuita che permette con estrema semplicità la realizzazione di una didattica in e-learning. Con esso è possibile creare e gestire in modo semplice comunità di apprendimento e sviluppare contesti didattici molto simili a quelli in presenza. Essendo Edmodo un applicativo web non è necessario installare software sul proprio computer. Unica necessità è avere una connessione internet. Durante il corso verrà mostrato come gestire online ogni attività didattica. Conversazioni, compiti, esercizi, calendario attività, registro di classe in una modalità operativa assolutamente protetta e chiusa alla sola classe. Edmodo risulta altamente inclusivo, particolarmente adatto per allievi ospedalizzati che non sono in grado di essere presenti in classe e per allievi che hanno necessità di supporto costante. L'intero processo di formazione sarà supportato online utilizzando appunto Edmodo ed in esso i partecipanti simuleranno attività didattiche e svolgeranno esercizi che proporrò. Distribuirò inoltre tramite la piattaforma slide e tutorial utili allo svolgimento delle principali attività con Edmodo. Vi aspetto quindi al mio corso.